Il curriculum professionale di Chiara Pavoni è ricchissimo di esperienze formative che vanno dallo studio della danza classica, contemporanea e jazz, allo studio delle percussioni. Passando per la scuola di teatro di Bologna e per i corsi di arti sceniche video presso l'atelier della Costa Ovest di Castiglioncello. Sono innumerevoli le sue partecipazioni teatrali, come regista, coreografa, attrice e ballerina. Così come molto numerosi sono i suoi reading in tante città italiane. Nelle sue attività televisive si propone come conduttrice e attrice. Molti suoi videoclip sono inseriti in produzioni cinematografiche. Il suo video della poesia, il brivido più lungo, tratta dalla raccolta Erotismo. Sì, di Bruno Mancini, è risultato primo classificato nella sezione Recitazione, dell'ottava edizione del premio 8 milioni 2019 e quindi nel novembre 2019, è stato proiettato sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano e sia nell'aula magna della Siam Società Incoraggiamento Arti Mestieri. Come parte integrante degli eventi proposti dall'Associazione Culturale, da Ischia all'arte di là, nell'ambito del palinsesto della manifestazione internazionale Book City 19. Chiara Pavoni ha realizzato nel 2020, in piena crisi, pandemica, molti video nei quali offre toccanti interpretazioni di testi poetici. Impegnandosi in qualità di regista scenografa ed attrice recitante. Tra i tanti vi segnaliamo la lettura della poesia Indaco, tratta dalla raccolta di poesie Erotismo sì, scritta da Bruno Mancini, che vi proporremo in altra parte di questo evento. Ed ecco a voi Chiara Pavoni.